In un clima di assoluto silenzio si è svolto in forma civile il funerale di Felice Orlando, l'operaio 49enne ucciso nella serata di sabato scorso nei frutteti vicino alla propria abitazione a Castel Bolognese. La salma è stata portata al cimitero locale e sono state raccolte offerte che saranno devolute per opere di bene. La partenza dalla camera mortuaria alle 10.15 in un clima surreale e accompagnato naturalmente dai familiari e gli amici più stretti. Orlando è stato ucciso con dei colpi di fucile alla schiena e alla nuca attorno alle 16 di sabato scorso quando si era recato nei campi in tenuta da caccia. Le indagini sono ancora a 360 gradi da chiarire il movente e da chiarire anche chi ha voluto la morte di Felice Orlando.